salve a tutti e ben ritrovati per una nuova campagna su total war warhammer 3 signori signore benvenuti per me è un grande piacere tornare finalmente con total war su questo canale finalmente dopo tanto tempo dopo un anno passato a lavorare alla tesi dopo la laurea dopo tutto quello che è successo un po di tempo mi è concesso e quindi umilmente mi pongo nella volontà di fare una nuova campagna soprattutto dopo quello che è successo con ikit che purtroppo non ha visto mai una fine ma oggi siamo davanti a un nuovo titolo è appena uscito non so praticamente nulla ho giocato il prologo poco fa l'ho finito una mezz'oretta fa devo ammettere che hanno fatto un lavoro straordinario con il prologo se non l'avete giocato siete arrivati qui e avete intenzione magari di recuperarvi il gioco o ce l'avete già e magari avete saltato il prologo il mio consiglio spassionato anche per gli amanti della lore soprattutto per gli amanti della lore è giocatevi quel prologo qualche premessa prima di iniziare questa campagna vi prometto rapidissimo faremo una campagna come di consueto nello stile di stefano quindi uno stile scanzonato che cerca di raccontare una storia un'avventura quindi nulla di troppo competitive nulla di troppo costruito sulla bravura del sottoscritto che come sapete chi ha già subito le campagne in passato è del tutto assente ma racconteremo una storia appunto e non solo perché per total world armor 3 staremo attenti anche alle varie quest che il gioco ci proporrà cercando di capire magari qualcosa di più sulla narrativa che si sta impostando per il vecchio mondo per l'occasione in arrivo sapete che cosa c'è di old world un gioco da tavolo che riporterà in vita il vecchio mondo se non lo sapete ora beh l'avete scoperto bene quindi faremo una campagna sia narrativa sia di esplorazione narrativa vera e propria quindi a livello di lore qualcosa spero di interessante per tutti ma è il momento di andare su nuova campagna e vedere un attimo di che si tratta eccoci qua il regno del caos soffiano i venti della magia trasformati in tempesta dal ruggito di un dio morente demoni e mortali sono chiamati a sfidare la tempesta sovranaturale e ad entrare nel regno del caos alla ricerca del primo finale riusciranno i demoniaci lord del caos a conquistare la vittoria e a ottenere il favore dei loro signori oscuri oppure gli abitanti saranno in grado di desistere alle prove alle tentazioni del regno del caos in un mondo martoriato dalla guerra incessante a te la scelta kislev grande katai korn slanesh i demoni del caos quindi il caos indiviso i regni degli ogri nargol e zinc queste sono le proposte che total horror hammer 3 ci pone al day one con l'aggiunta dei regni degli ogri che erano appunto in dlc preorder o chi acquistava il gioco entro una settimana dieci giorni dal rilascio che cosa giochiamo noi per la precisione qual è stata la mia scelta forse chi ha avuto modo di seguire un po su twitch già sa ma voglio iniziare questa avventura con una fazione umana se su total horror hammer 2 avevamo testato inizialmente gli skaven del clan pestilence quindi la distruzione sostanzialmente da quest'altra parte qui con total horror hammer 3 voglio iniziare col kislev lo zarato di kislev conosciuto come regno della regina dei ghiacci è la civilizzazione più settentrionale del vecchio mondo un paese potente bellicoso gli abitanti di kislev sono guerrieri indipendenti e forte come lupi valorosi e determinati a difendere la loro madrepatria poiché fungono da baluardo contro gli orrori del nord dal momento della sua fondazione kislev è stato preso da santo costantemente dalle orde del caos innumerevoli generazioni di kisleviti hanno combattuto e hanno perso la vita nella tundra innevata dello stile oblast settentrionale e grazie ai coraggiosi guerrieri kisleviti se l'umanità ha potuto prosperare al sud al sicuro nel tepore delle loro case mentre i figli e le figlie di kislev continuano combattere fino ad esalare l'ultimo respiro bellissimo bella introduzione semplice diretta ci racconta in soldonissimi vero quello che è kislev ma lo scopriremo insieme ancora meglio durante questa campagna abbiamo già da capire qualche bonus della fazione la madrepatria ottieni devozione per invocare gli dèi di kislev e sfruttali per raccogliere altri sostenitori e rinsaldare il tuo potere abbiamo gli atamani assegna un atamano al governo di una provincia per avere dei benefici unici e infine la corte di ghiaccio a destra fanciulle gelide e streghe del ghiaccio per far loro ottenere tratti potenti prima di reclutarli ma lo scopriremo soltanto giocando quindi dobbiamo andare su continuo a questo punto giocheremo una campagna a difficoltà diciamo normale semplicemente per un motivo è la mia prima campagna su questo gioco voglio esplorarlo davvero in maniera come dire del tutto conoscitiva lo voglio fare insieme a voi ripeto vuole essere un'avventura vuole essere una scoperta e quindi non ha senso andare su difficoltà più alte attualmente lo faremo magari con una seconda campagna o magari un po in privato cercherò di capire meglio il gioco con difficoltà più alte in ogni caso abbiamo ancora una scelta da fare una scelta importante due personaggi guidano questa fazione attualmente tre in realtà ma dobbiamo prima fare un'altra cosa lo scopriremo vedremo la prima è la zarina catarina bohta boha ma in sostanza è lei la regina dei ghiaccio di kislev stessa che c'è stata narrata prima personaggio già famoso nei racconti del vecchio mondo che ha già avuto importanti ruoli all'interno delle battaglie contro il caos soprattutto durante l'assedio di kislev quando poi l'impero giunse da sud per battere le orde di un imponente esercito caotico misto in realtà guidato anche da campioni caotici importanti tra i quali sto per citarne uno asavarkul e abbiamo poi konstaltin personaggio in realtà nuovo e qui appunto parliamo anche dei personaggi nuovi della nuova narrativa che si sta impostando sui nostri schermi davanti ai nostri occhi con questo terzo titolo perché appunto sarà narrativa probabilmente canonicissima per quanto riguarda poi di old world quel gioco da tavolo qui accennavo prima leggo rapidamente anche il suo pannello ma vi dico già che giocheremo con la zarina konstaltin patriarca supremo della fede ursunita è uno dei leader spirituali più potenti di kislev ha un aspetto selvaggio e trasandato e sul campo di battaglia è un agitatore furioso e ululante che esorpa i suoi devoti seguaci a combattere e morire nel nome del grande orso e qui si pone appunto la questione anche della fede nel kislev kislev che è stato ulteriormente approfondito anche nelle sue divisioni regionali quindi anche di popolazioni che hanno fondato poi kislev vedremo se il gioco ci darà qualche dettaglio in più leggiamo quindi la nostra sovrana mi prostro dinanzi a voi o regina la zarina caterina bocca la regina dei ghiacci di kislev è una delle più potenti streghe del ghiaccio mai vissute e questo introduce anche una nuova lore la lore del ghiaccio nel gioco dalla sicurezza gelata della capitale del kislev la regina dei ghiacci regna con fredda maestosità si dice che il suo potere provenga dalla madre patria stessa i picchi gelati e la tundra desolata le forniscono la padronanza della magia del ghiaccio una lore antica molto molto rara preziosa che si conosce bene nel kislev ma al di là di questi confini poi diventa sempre più rara e poco nota devozione generata 10 dal successo dell'azione dell'eroe delle fanciulle gelide e quindi questo si rifà appunto alla questione devozione e alle fanciulle in questo caso particolare controllo più 6 che sarebbe l'ordine pubblico bonus grado dell'eroe più 3 per le fanciulle gelide ci sta durata d'addestramento delle corte di ghiaccio meno due turni scopriremo io non so nulla ragazzi non conosco le unità più di tanto quindi scopriremo insieme effetti del lord corruzione meno 6 nella provincia locale molto bene soprattutto perché dovremo affrontare il caos mantenimento meno 50 per l'unità dei guardi di ghiacci nell'esercito del lord buono probabilità minima di incidenti di lancio meno 50 per cento è una maga è un lord quindi molto fragile ma che ha delle magie molto potenti che ci torneranno sicuramente utili noi giochiamo a normale ripeto la mappa di partenza eccola qua siamo parecchio a sud siamo abbastanza sud in realtà siamo proprio nella regione d'appartenenza del chislef la mappa come vedete poi la scopriremo meglio ma è una mappa ben diversa da quelle cui eravamo abituati impostazioni lasciamo tutto uguale per il momento non ci preoccupiamo troppo signori con la regina con la zarina noi ci muoviamo per iniziare una nuova campagna su totavoro ramar 3 in vostra compagnia chislef un regno forgiato dalle regine khan del passato il baluardo contro l'oscurità il bastione vivente a difesa dell'impero e delle fragili nazioni a sud catarina salì al trono dopo la morte di suo padre ma in troppi nel suo regno non approvavano il suo governo e adesso il potere della grande ortodossia se rivolta contro la regina dei ghiacci se vuole salvare ursun oltrepassare i suoi confini e raggiungere il regno del caos catarina ha bisogno di una nazione unita che la sostenga sto recandomi da lei oltre le remote terre gelate presso la corte di ghiaccio temo che non sarà facile convincerla ad accettare il mio consiglio alla corte di ghiaccio è giunta voce del mio arrivo e mi è stata già concesso un'udienza nella sala del trono scopriamo scopriamo che cosa si cela dietro questo personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere ma che ora andremo a scoprire ulteriormente nel suo essere consigliere in questo caso particolare proprio consigliere della regina dei ghiacci la propria 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 a delicato touch i speak the truth la propria propria non è morto! Si sta nel mondo del caos, è morto del Shadowlord! Non è una scuola! Per un colpo di urson's blood, posso aiutarti salvare l'ho! Escrivete le parole sui ultimi, vecchio uomo. Il è un giusto! Guarda il tuo cuore! Guarda il tuo cuore! E un giusto! È un giusto! È un giusto! Il dice la verità! Non è non c'è! È un giusto! Il dice la verità! Il dice la verità! SILENCE! Abbiamo perduto quello che è più precioso. Molti dicono che io sono l'unico, che io non ho più il diritto di sito su questo trono. Quindi io sto sto! Io sto sto con i miei persone, tutti voi! e se si arriva a questo, io sto con i miei persone. Ci sono stati blindati da grifo. Ursun vive! E mentre il città di draw brett, noi città! 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 Siamo giunti a un accordo sul prezzo dei miei servigi Farò tutto il possibile per guidare Ghisleviti al loro dio perduto Come then, before I change my mind and cast you into the ice Advise me Altezza, ci sono nemici vicini che minacciano il tuo trono Se vogliamo salvare Ursun dobbiamo prima occuparci di loro Il Maelstrom ha costretto i Norsemanni, i seguaci dei poteri oscuri A penetrare nei confini di Ghislev Hanno preso Gerslev, morte agli invasori Queste incursioni, ma anche l'inverno senza fine Hanno seminato il malcontento tra i subiti del tuo florido ring I seguaci della grande ortodossia si mostrano insofferenti al tuo governo Placali, o con la diplomazia, oppure con la forza Costaltin, il patriarca supremo del culto di Ursun Sta istigando i subiti alla ribellione Occuparsi di lui è una priorità Se lasciato libero di agire potrebbe provocare uno scisma dal quale Ghislev non si riprenderà più Fortunatamente possiamo trovare degli alleati oltre i nostri confini occidentali e meridionali Stringi alleanze con l'impero e le tribù Ghislevite che sono da sempre fedeli alla tua stigme Salva guardare la madre patria e il tuo dio richiederà un grande sforzo Cominciamo Da, da, tovarish Molto molto bene Ci troviamo subito nelle situazioni più, come dire, spinose, miei cari Spinose Fra l'altro, prima di iniziare a leggere e andare avanti Voglio ricordarvi che i vostri commenti, il vostro essere partecipi nella scelta, nella possibilità appunto tattica strategica Saranno fondamentali Quindi, come sempre, ricordatevi il mio consiglio di guerra Il mio consiglio di guerra Voi sarete il cabinetto, il cabinetto in questo caso Cambiate nome ogni volta Ad ogni campagna prendete un nuovo nome Siete sempre fondamentali, quindi il mio gabinetto dovrà essere qui presente per aiutarmi Perché, lo sapete, io sono una mano, come dire, poco affidabile La vostra potrebbe essere migliore della mia, molto banalmente Stile di gioco La corte di ghiaccio Madre patria Le fazioni di Ghislev ottengono la devozione del popolo attraverso diverse azioni Come combattendo il caos o costruendo edifici religiosi La devozione si usa per ufficiare le invocazioni della madre patria Legate a uno dei tanti dei di Ghislev Bene Cioè, ci dice anche qualcosa in più sulle religioni Ghislevite Perché, comunque, Ursun è la divinità principale Certo, la divinità orso Che incarna lo spirito stesso di Ghislev Che abbiamo saputo Essere in pericolo In prigionia Da parte del principe oscuro Vi faccio un piccolo spoiler, forse Ma quel principe oscuro È un nome, insomma, che rimanda ad un personaggio in particolare del caos indiviso Che è Belacor Ma in ogni caso Ciocatevi di nuovo il prologo, ve lo dico La corte di Ghiaccio Le potere di facciulle gelide e le streghe di Ghiaccio Vengono addestrate nella corte di Ghiaccio Prima di poter essere reclutate L'addestramento richiederà del tempo E le decisioni prese nel frattempo incideranno sui tratti dei personaggi Molto interessante Quindi, io, da come l'ho intesa Forgeremo noi Nel mentre si creeranno le nuove legioni Diciamo, di streghe di Ghiaccio O delle fanciulle gelide Dei tratti particolari in esse Quindi molto interessante E che ci dà l'idea di quanto sia difficile Ottenere le abilità, insomma, legate al potere della magia del Ghiaccio Atamani I sovrani di Kislev possono nominare gli Atamani Per governare le province che controllano Gli Atamani conferiscono dei bonus ai territori che governano Lo scopriremo meglio poi Eccoci qua Certo, lo faremo, mio caro Ora, questo vuole una goccia di sangue di Ursun Io non so bene, ma C'è del marcio C'è del marcio Mi fiderei, ma non troppo, di costui Mi fiderei, ma non troppo Allora, la nostra prima missione Beh, iniziamo subito Sconfiggio un esercito di questa fazione Vahanneling Penso si pronuncia più o meno così Provenienti dal maestro Mi adoratori degli dèi oscuri Flagello nella madre patria Un'orda di Vahanneling Osa addirittura invadere la capitale Un monarca potente come te Non può rimanere a guardare A nientali Bene Devozione Tesoreria Ed era reclutato Una fanciulla gelida Della bufera Quindi penso sia una specifica Poi all'interno del ramo Delle fanciulle gelide Innanzitutto Signori Abbiamo Una sola provincia A nostro controllo Che è il fiume Uruskoi Banalissimo Ma importantissimo Perché abbiamo Kislev Che ci dà Una cittadina Enorme In realtà Con un botto di Slot Da utilizzare Partiamo con 6.000 E Possiamo già iniziare A potenziarci Abbiamo Di partenza Una capanna Dei Kossari Molto bene Che si trasforma In Chattaz Kossari Corazzati E Kossari Corazzati Grandi armi Sblocchiamo successivamente Per il momento Abbiamo quelli con lancia Poi possiamo costruire Ma direi di vederlo dopo Perché abbiamo Già Una battaglietta Con Leif Gulbrani Mio Carissimo Amico Ma che oggi Dobbiamo tradire E uccidere Partiamo con Un esercitino Interessante Kossari Corazzati Con grandi armi Ne abbiamo due Armatura Corpo a corpo Penetrante Armi a lunga Agitata Speciali Bene Immagino Grandi armi Quindi anche buoni Contro unità Mostruose Kossari Corazzati Normali Armi a lunga Agitata Speciali Arma Insomma Che dovremo poi Scoprire meglio Vediamo Con armatura E scudo Ok Guardia dei ghiacci Con spade Doppia Unità Ibride Antifanteria Morsa congelante Hanno attacchi Glaciali Magici Quindi Nice Very very good Sono unità Non troppo Corazzate Ma che fanno Veramente Parecchio male Soprattutto Vedo Con Il corpo a corpo Ma buono anche La potenza Di tiro Abbiamo i lanceri Alati I famosi Lanceri alati Di Kislev Che rimandano Ovviamente Gli usarei alati Polacco Lituani E infine Un lopardo Delle nevi Penetra le armature Contro le unità grandi Bene Molto veloce Peccato perché Non credo ci saranno Unità grandi Nei primi turni Ma Più in là Ci sarà Sicuramente Modo di utilizzarlo Signori Prima battaglia Quella Zarina Katarina Che Eccoci Sarà versato Del sangue Sarà versato Del sangue Korn Ne sarà felice Ma Noi non lo facciamo Per Korn Cioè Facciamo Per noi Perché siamo Zarina Katarina E Il signor Leif Gulbronsen Ha tentato Di assalire Le nostre Preziose Risorse Di vodka Tenute Stipate A Kislev Noi la combattiamo E' una battaglia Che potremmo decidere Già Velocissimamente Con una Resoluzione Automatica Ma Direi di no Direi di combatterla Anche perché E' la prima E questo episodio Sarà abbastanza breve Il tomo del destino E' uno dei grimori Preferiti di Zincera Chiude conoscenze illimitate E' un sapere Che sugge persino I demoni Tuttavia Esse è maledetto Come tutti gli strumenti Del manipolatore Chi si lega A questo libro Può servirsi Dei suoi segreti Non lo sapremo mai Ma E' sostanzialmente Quello che viene letto Insomma Nel prologo Allora Partiamo con Vabbè In realtà Tirano tutti Ok Ai lati Ci tengo Le nostre Signorine Signorine Incazzatissime In realtà Adesso Scopriremo Queste unità Voglio Voglio scoprirle Con voi Mi sono Mi sono tenuto Disinformato Volutamente Di ogni aspetto Di ogni aspetto Di questo gioco Proprio per scoprirlo Insieme a voi Quindi Devo fare una cosa Che faccio sempre Incazzate Nere Incazzatissime Molto belli Questi modelli Devo ammettere Che sono Davvero Meravigliosi E loro sono Davvero Meravigliose Wow Bellissimi Ecco i costari Con le grandi armi Ecco Hanno le pistole Ok Hanno le pistole Quindi sparacchiano E poi Merano con queste Sorte di Magli Di mazze La zarina Che ovviamente Vedete gli occhi Gli occhi Della dipendenza Dell'alcol Ecco Sono gli occhi Della dipendenza Alcolica Kislev È una regione Fredda Ma zarina Non esageri Mi raccomando Mi raccomando Un piccolo esercito Certo Un piccolo esercito Certo Ma devo dire Che già Si pone Con una certa Arroganza Una certa Arroganza E bellezza Voglio vedere Eccoli qua Eccoli qua Madonna Spero di poterli usare Bene Nel miglior modo Possibile Sono cavalleria Da carica Probabilmente Adesso li guardiamo Meglio Ma sono cavalleria Da carica Quindi dovremmo ciclarla Questa famosa carica Bello Leopà Mamma mia Sei stupendo Vi ho mai raccontato Del mio amore Verso i felini Avendo anche gatti Su gatti A casa E perdendo Ore delle mie giornate A guardare Invece di scrivere Video lore Stefano Complimenti Fai schifo Invece di Scrivere video lore A guardare i video Di cut century Questo parco Questo zoo Che salva i gattoni Ma iniziamo la battaglia Sì loro sono da carica A vedere le statistiche Va bene Lo sappiamo Lo sappiamo Bello che c'è il discorso Della zarina Zarina che ha già Lastra di ghiaccio Che riduce la velocità Bene E un fiato Un alito Morsa congelante Ok 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 Allora lasciamo le avvicinare Per il momento Vediamo le nostre Fanno male Fanno male Fanno male Hanno il loro perché Proiettili Tra l'altro Magic Morsa congelante Ecco che partita Che bordata No vabbè Unità mista Io i ragazzi Sto Sto godendo Cioè Prima che si avvicinano Vengono Triturati Questi voracci I predoni Eccoli che arrivano È il momento di Passare alle spade Cosa fate qua Devono combattere Corpo a corpo Adesso ci pensiamo noi Carica di cavalleria Il consigliere è diventato Più incazzato Di sempre Ok Piccolo fiato Che bello L'hanno messo a rallentatore Fermatevi Ok Attaccate loro L'arena non può entrare in combattimento Ovviamente Qui metterei la morsa ghiacciata E qui tirerei su di loro Così Ignorante Il leopardo lo teniamo fuori Dai combattimenti Per il momento E qui invece Carichiamo con I nostri Meravigliosi Lancieri alati Che bellezza Va bene Se Scappate Io vi sparo Alle spalle Proprio Perfetto Questi stanno Combattendo con Eh ma Guardate Leif Cioè Leif E' inutile Che ti metti Qua in mezzo A Spaccare scudi Agli altri Cioè La vodka Non è tua Capisci Coltivate le tue patate Schifoso Allora Qui Stiamo semplicemente Finendo il lavoro Loro sono già Irrotta Vittoria Facile Sapevamo Lo sapevamo Ma bene così In realtà Leif ha fatto Un gran male Qua in mezzo I cossari corazzati Le hanno prese Hanno preso Delle belle sberlone Vediamo il leopardo Di lanciarlo Nel post battaglia Io ve lo ceggio Un secondo Perché voglio vedere Quanti danni gli fa In 1v1 Ma questo è forte Contro unità Grandi Quindi Non credo sia Incredibile In tal senso Vediamo se riusciamo Proprio ad ammazzarlo Ma Penso Piano piano Di sì Bello perché Lo spinge indietro Lopardone Però lopardone Quanto Quanto gli No in realtà Gli fa abbastanza male Gli fa abbastanza male Gli tira delle belle Delle belle mine Non incredibili Per essere insomma Un personaggio Quindi non Eccelle Contro appunto I personaggi In quel senso Eccelle Però ok Vittoria decisiva Termina la battaglia È andata Molto molto bene 124 kill Di lanceralati Per capire subito Come stanno le cose E Leif Che si ritrova morto Sul campo di battaglia Senza vodka E con la zarina Che può farsi Un goccettino Non esagerando Mia cara zarina Non esagerando Perché Le sacre scorte Vanno tenute Vanno tenute Allora Bene Sì Vabbè Adesso decidiamo Queste sono cose Che insomma Sono rimaste Uguali Identiche Non sono cambiate Abbiamo guadagnato Anche uno standardino Che è lo standard Della velocità Grande classico Io lo darei Proprio la zarina Cosa dà questo? Velocità? Sì Ci serve che sia Bella mobile Lei Per fuggire Eventualmente Eccetera Allora Devozione Tesoreria Unità reintegrate Ma io Giusto per spingere Un po' più Là Al tutto Reintegrerei Però devozione Importante L'abbiamo saputo L'abbiamo capito Prima reintegriamo Perché voglio andare A prendere subito Gerslev Se è possibile Missione completata Ottimo Abbiamo un eroe Quindi Stendendo la velocità L'abbiamo visto Bene Integralo L'arrivo di un'eroina Ok Mission assegnata Integratore Nero Nell'esercito Lo facciamo Appena possibile Frothmaiden Livello 1 Per la zarina Io gli darei Immediatamente Tracciatura Ci serve per muoverci Un po' di più Come di consueto Lo sapete A me piace molto Questo aspetto E adesso costruiamo Qualcosa Kislev Allora innanzitutto Migliorerei Immediatamente Quello che abbiamo già Perché ci sblocca Comunque sia Ciò che abbiamo Nell'esercito Ma che dopo potremo Reintegrare Recuperare E inserire In futuri eserciti Abbiamo l'accampamento Di caccia Ci dà le pellicce Riduce i costi Di reclutamento Costari Cavallere leggera Introdotti derivanti Dalle fattorie Più due In tutta la fazione Non male Qui abbiamo degli edifici Che sblocchiamo al 3 Quindi per il momento Non ci interessa Qui uguale Qui abbiamo Le fortificazioni Battuglia di guardia Ci fornisce appunto Queste tipologie Di rinforzi Alla guarnigione In tal senso invece Le fortificazioni Provisore Ecco cambiano Perché Abbiamo più scorte Difensive E scopriremo meglio Cosa si tratta Con scorte difensive Logramento Meno 10% Quando si è sotto assedio Munizioni più 50 Durante la battaglia In difese Non assedio Meravigliosa Questa cosa Che ho sempre patito Un sacco Nelle difese Di assedi Becchi Total War Grande Mi piace Però C'è anche L'altro ramo Che è questo Che è questo Che può arrivare Wow Fino al livello 5 Li hanno cambiati Parecchio Devozione Sostenitori Controllo E corruzione Io per il momento Andrei Proprio di quello Perché controllo Corruzione ridotta Sostenitori Devozione Fa tutto brodo È vero che Ci si ferma A livello 4 Per iniziare Per crescere Più velocemente A Kislev E poi Gestircelo Ok Non ti preoccupare Non ti preoccupare In un territorio Sicuro Ma certo Ma certo Mio caro consigliere Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ho bevuto Ma non così tanto Allora Cosa abbiamo Abbiamo soltanto Cossari E Cossari Con lance Noi si aspettiamo Due tour Un po' di tiretto puro Ma mettiamoci Un paio di cossari Con lance Che si possono utilizzare bene Allora Lei cosa fa Integrando Ricognizioni Aumenta le possibilità Dell'esercito Di trovare Un oggetto magico Dopo la battaglia Aumenta le entrate Come effetto costante Versagli Diciamo All'esterno Sono insediamento Ruba tecnologia L'esercito assale l'unità E all'eroe Gli assassina Bene Bene Noi integriamo Dato che c'è anche la missione Facciamo il volere E guadagniamo Oltre 500 danari Perfetto Abbiamo un editto Anche da tirar fuori Vediamo un po' Controllo Capacità Durante la campagna Meno 20 per eserciti nemici Che iniziano il turno In questa regione Bello Li rallenta Entrate derivanti Da tutti gli edifici Più 5 Coste di rilutamento Meno 10 Capacità di rilutamento Locale Più 2 Interessante Buono Probabilità di diffusione Della peste Meno 40% Bonus grado dell'eroe Più 2 Corruzione Meno 5 Coste di rilutamento Di eroe Meno 25 Noi però Vogliamo essere Proprio in una botte De fero E quindi Mettiamo Controllo E riduciamo La capacità di movimento Nemica Anche perché Come ragione Piccolina Però Insomma Può essere utile Bene o male Sempre Per via del controllo I nostri vicini Fra l'altro Sono anche imperiali In realtà Anche imperiali C'è il Lost and Mark Qua sotto C'è il Lost and Mark La presenza del caos Delle desorazioni Vere e proprie Noi qui abbiamo La Norsca Che è questa fetta Di terra Montagnosa I monti e confini Del mondo E poi di qua Si procede In teoria Verso terre Che Attualmente Non conosciamo O meglio No Questi sono i monti e confini Del mondo Ok E di qua invece Si va verso Le desorazioni Nellulanti Bene 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 Qui verso Le regioni Del Katai Quindi Eh si Eccoli qua Infatti Particolare Molto schiacciata Molto schiacciata Come mappa Molto 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 Vediamo Allora abbiamo Una tecnologia Quanta roba La terra Kislev Eringrad Prague Che città Importante Ma in realtà Tutte quante Lo sono Prague Mi è sempre Molto molto Piaciuta Per via Della sua Maledizione Ma Terra cosa ci dà Residenza Alle armi Da tiro Bah Crescita Va bene Difesa corpo a corpo Per i Cossari In generale Sblocca Non svolto Advestramento Della corta di ghiaccio Per gli eroi Fanciulla gelida Eroi Rebutabile Più uno Per le fanciulle gelide Questo Potrebbe essere Molto interessante Scultura di ghiaccio Indottenamento Anche questo Fa una cosa simile Ma questo Penso lo faccia meglio Eh sì Collare in cuoio Di bestie di ghiaccio Poveri bestie 15 Per i leopardi Le nevi Forza dell'arma Convalescenza Reintegro Ok Eringrad Anche questo Stessa cosa All'inizio Munizioni Più 10 Per le unità Di Cossari E riduzione Del tempo di ricarica Sempre per i Cossari Interessante Artigiani ottici Campo visivo Carino Carino sempre Stessa cosa Cambiamento Deve servire La magia Molto interessante Molto interessante Capacità di reclutamento Locale Più uno In tutte le province Sapete cosa? Inizierli da qua Io inizierai da qua Per capire E Reclutiamo Vediamo Vediamo un attimo Una diplomazia Come si è ammessi Allora È in clave Drusina È in clave Ho letto Sì Perché è guidata Da Elena Zakharova Oltretutto Siamo già Con patto In un'aggressione Cosa possiamo ottenere Di più Magari Qualcosa C'è Un accordino Commerciale Buono Molto buono Grazie Elena Grazie Grazie Poi c'è Restlin Bebchuk Anche lui Kislevita Possiamo fare Anche con lui Un accordo Commerciale Di buon grado Kislev Endures Sempre Forza Forza Signori Siamo contro Il clan Di Ropsman Che è guidato Da Grigor Kyaryakin Kyaryakin Questo deve essere Un fedele Di Kostaltin Quel mentecatto Della grande Ortodossia Eccolo qua giù Guardate che folle Guardate che Taglio di capelli Non propriamente Accettabile Nelle regioni Del Kislev Fa freddo Di essere coperto Legione del caos Rulek Mortkin Ai 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 Terrificante Ci aspettano a nord Abbiamo dei buoni rapporti Anche con l'Ostenmark Che è sotto di noi Possiamo fare un trattato Anche con loro Lo facciamo subito Grazie mille World Farm È sempre un piacere Sempre un piacere Con l'impero Si tratta sempre bene E Si può fare qualcosa Anche forse Forse Con l'Ostland Che è qua vicino No Possiamo bilanciarlo Con Troppi soldi Direi Direi che non si può fare Direi che non si può fare Per il resto Ci odiano Più o meno tutti Lo Stirland Oh Patto di un'aggressione Vai Alberico Abt Anderson Grazie di cuore Lo Stirland È nostro amico Diventerà nostro amico Ancora di più In futuro Peccato per l'Ostland Non possiamo farci niente Proprio Rompi il patto Vabbè Ci abbiamo il patto Quanto meno Va bene Peccato Vai Abbiamo un bel introito Abbiamo veramente Un ottimo introito Per il momento Quindi Buono Un corte di ghiaccio Non possiamo fare Nulla Dobbiamo aspettare La ricerca tecnologica Passiamo il turno Signori Ci abbiamo verso La fine realtà Di questo episodio A breve Vediamo come si muoveranno I nostri nemici Ok Intanto abbiamo fatto questo Che ci dà altra emozione E altri soldi I predoni E certo L'abbiamo fatto prima Ma certo Sapete A Gerslev Un tempo Esisteva Un'ottima distilleria Un'ottima distilleria E la Zarina Aveva Dei grandi interessi In tal senso Enormi interessi Cosa significa questo? Significa che Noi andremo a prenderci Gerslev E lo faremo Però Nel prossimo turno E nella prossima Probabilissima Nel prossimo Anche episodio Facciamo semplicemente La crescita Continuiamo a Aumentare Questa Statistica Mie cari È solo l'inizio Abbiamo Come dire Iniziato Un percorso Che ci accompagnerà Nel gelido Gerslev E sempre più a nord I nostri nemici Sono molte Teplici Guardate Già più in là Ci aspettano Altri Chisleviti Che purtroppo Non seguono La Zarina I suoi occhi Glaciali Il suo Fiatellino Di Alcol Potente Che in realtà Lascia lacrimare Gli occhi Di chi Mi sta davanti Non sono abbastanza Non sono abbastanza Per loro Preferiscono Stare dietro Quel mentecatto Con i denti marci E Il nido D'uccelli Sulla testa Di Costaltin Che professa La sua religione Contro di noi L'ortodossia Ursuniana Ma chi sei? Ursuna è uno solo E lo dobbiamo salvare Non c'è Altra strada Da seguire Quindi Mei cari Ora Il consiglio è Ovviamente Prenderemo Gerslev Ma poi Cosa faremo? Dove ci dirigeremo? Andare verso Prague Direttamente Una città importante Una capitale Oppure Prima di muoverci Verso Prague Tentare Di liberare I territori Come Igerhof O Volksgrad O entrambi Anche meglio In un lungo Sentiero Lastricato Di sangue Del nemico Bene E poi Prima di Lasciarci Definitivamente Evelina Bebciuk Ha bisogno Di un soprannome Sapete? Quel soprannome Dovete deciderlo voi Sceglierò Uno dei soprannomi Che più mi ha convinto Mi ha fatto ridere Mi è piaciuto Sapete che Dovrà essere In stile Campagna Di Stefano Lo sapete Per chi già seguiva Mie cari Questo è tutto Io vi ringrazio E vi rimando Al prossimo episodio A presto E vi ricordate Sì Ursul Ci osserva Noi Portiamo la sua parola E vi ricordate